In questi ultimi due anni si sono sempre di più accentuate le situazioni che ci hanno consentito, ci hanno permesso di renderci conto di tanti errori all'interno della pubblica sanità e del Ministero della Salute, possiamo dire. In questo periodo sempre di più abbiamo visto degli errori, sempre di più abbiamo visto delle irrazionalità in quelli che sono stati i comportamenti, le regole e i protocolli del Ministero della Salute. Ma che cos'è in realtà la salute? Cerchiamo di porre dei cardini, di mettere a fuoco bene che cosa significa essere in salute e non esserlo chiaramente come contrasto. La salute in realtà è un insieme di fattori, possiamo dire che è una definizione molto astratta che però tiene in conto di diversi fattori, di diverse reti che, come ho detto in altri video, interagiscono tra di loro. Io ho individuato tre elementi principali che secondo me sono i fattori più importanti, fondamentali, possiamo dire. C'è la salute del corpo, inteso chiaramente come equilibrio tra quello che è il genotipo e il fenotipo di un essere vivente e quindi l'aspetto esclusivamente fisiologico, materiale, i suoi organi, i suoi sistemi, le sue cellule, quindi il benessere del corpo. Poi c'è il benessere della psiche, che è intesa non soltanto come funzione cognitiva, ma proprio come intero assetto psicologico e possiamo dire anche come espressione proprio di quelle che sono le facoltà mentali e cognitive dell'essere vivente. E poi c'è l'aspetto invece dell'ambiente, in cui l'individuo è immerso e così anche la popolazione ovviamente risiede in un certo ambiente, in un certo paesaggio. A me piace chiamarlo molto paesaggio rispetto ad ambiente, perché ambiente fa più riferimento a una visione ecologista-ambientalista diversa da quella che intendo io. L'ambiente è fatto da fattori abiotici, quindi non viventi, e fattori biotici, quindi viventi. Per quanto riguarda l'ambiente, sicuramente vivere in un ambiente contaminato decide le sorti anche degli individui che abitano in questo ambiente che non è salubre, quindi è un ambiente sostanzialmente contaminato, tossico, che non può consentire l'equilibrio e la salute anche del corpo e anche della psiche. Quindi sono tre fattori che interagiscono tra di loro. Ognuno di questi tre elementi risente di un suo stato di ordine o di disordine e quindi di una sorta di contaminazione, di intossicamento, possiamo dire. Quindi di tossicità. E occorre agire su questi tre fattori in maniera concomitante per recuperare l'idea di salute dell'uomo, dell'individuo e quindi poi della comunità, della popolazione. Quando noi dobbiamo agire sull'uomo, sulle persone, per ripristinare uno stato di salute, dobbiamo avere consapevolezza del fatto che queste interazioni esistono tra corpo, psiche e ambiente. E non esiste soltanto il corpo, non esiste soltanto la psiche e non esiste soltanto l'ambiente. Quindi dover agire soltanto su una di queste tre matrici, di questi tre fattori, è decisamente molto riduttivo. per migliorare la salute di una popolazione. Ci si dovrebbe in qualche modo anche interfacciare tra chi recupera l'ambiente, tra chi recupera il corpo e chi recupera la psiche. Quindi anche un dialogo, una comunicazione, un'interazione tra coloro che si dedicano alla cura del corpo, tra coloro che si dedicano alla cura della psiche e dell'ambiente, per poter ripristinare uno stato di salute effettivamente valido ed effettivamente efficace per tutti. Una cosa fondamentale, chiaramente, in questo discorso è che bisogna trovare dei professionisti sanitari, dei medici, che comprendano queste interazioni, queste reti, che si creano tra psiche, corpo e ambiente. e non considerino invece gli individui soltanto da un punto di vista corporeo, materiale, o addirittura soltanto da un punto di vista psichico, perché quando spesso un medico non sa cosa dire a un paziente, non sa quali siano le cause del suo male, comincia a tirare in ballo lo stress, la psiche, l'aspetto psicologico, e lì ovviamente il discorso, l'errore, comincia a essere abbastanza palese. Quindi agire sull'uomo, sulle persone, significa avere consapevolezza di queste interazioni. Ma non soltanto questo, un medico che interagisce con un paziente è fondamentale che capisca che ogni paziente è un mondo a sé, quindi ha delle sue caratteristiche personali, una sua storia individuale, è immerso in un suo ambiente, in un suo paesaggio, e ha un suo aspetto psichico specifico e individuale. Quindi la cura per il paziente deve essere fondamentale nel discorso del medico, dell'operatore sanitario. Si deve utilizzare la propria esperienza per poter fare analisi del paziente, storia del paziente, potremmo dire analisi delle sue caratteristiche, curarlo, quindi analisi, cura e attenzione verso quello che è il nostro, diciamo, il paziente che si rivolge a noi come professionisti sanitari. Si deve eliminare il totale riferimento sempre esclusivamente ai protocolli e alle linee guida, che sono una sorta di standardizzazione che non viene decisa molto spesso a livello nazionale, ma viene decisa a livello internazionale da aziende che operano, diciamo così, a un livello al di sopra di quello dei paesi. Quindi noi non facciamo riferimento a linee guida del sistema sanitario nazionale, ma facciamo riferimento a dei protocolli che vengono, ad esempio, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le linee guida, le procedure e i protocolli sono delle raccomandazioni che facilitano le aziende, possiamo dire, e i medici che si concepiscono come parte di un'azienda, cioè come dipendenti. Ma il medico non è questo, chiaramente. Il medico è un professionista che lavora in autonomia, in libertà e che deve curare il paziente nella sua singolarità e individualità. Quindi le linee guida sono state sostanzialmente definite soprattutto per scaricare i medici che si sentono parte di queste aziende da molte responsabilità, perché se ovviamente si applicano dei protocolli a un paziente significa che quel paziente è stato sottoposto a una standardizzazione, non è stato visto all'interno di una standardizzazione e che se è stato utilizzato quel protocollo non ci possono essere stati errori, perché ovviamente io agito in base a quello che mi ha detto la linea guida, in base a quello che mi ha detto la procedura. Quindi se io ho applicato la procedura non posso essere ritenuto responsabile, magari, di qualche danno che si è verificato al paziente oppure a diversi pazienti che io ho curato. Quindi è un modo per eliminare le responsabilità del professionista, dell'operatore sanitario. Nell'elaborazione delle linee guida, poi più che altro, come dicevo, c'è un intervento esterno, quindi non c'è esclusivamente l'intervento del Ministero della Salute che in teoria potrebbe avere in parte a cuore il benessere dei cittadini, ma c'è l'intervento di aziende esterne, spesso multinazionali, che hanno invece molto più interesse per i propri guadagni, per i propri introiti e per i propri ricavi. E questo è quello che succede infatti al sistema sanitario nazionale, che molto spesso adotta delle linee guida che non vengono da organi, da istituzioni nazionali, ma vengono da organi che fanno parte della distribuzione del farmaco, oppure dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o addirittura da privati che investono in questi organismi sovranazionali. Questo è quello che riguarda un po' le linee guida, i protocolli, che non devono essere, a mio parere, applicati alla salute pubblica. Cioè, sono ovviamente delle linee di riferimento che possono essere prese in considerazione, ma non bisogna applicarle in maniera rigida a tutti, perché ovviamente questo significa eliminare completamente il fattore individuale, il fattore soggettivo, che per quanto riguarda la salute dell'individuo è ovviamente predominante. Inoltre, c'è un discorso anche di riduzione dei fondi nella sanità pubblica, che va considerato. Le esenzioni, i ticket, sono sempre meno rimborsati a tutti, e quindi sono sempre più caricati sulle spalle dell'economia familiare, possiamo dire. Spesso nelle regioni, prima si avevano delle esenzioni, prima c'erano dei fondi destinati alla pubblica sanità, e quindi molte visite potevano non essere a pagamento, potevano essere gratuite, molti esami diagnostici, molte analisi cliniche e ematologiche erano gratuite. Attualmente in molte regioni si sta verificando che finiscono i fondi, molto spesso finiscono proprio i primi giorni del mese, per cui poi bisogna pagarli di tasca propria. E questo accade perché i fondi nazionali e i fondi regionali sono destinati a cose inutili. Facciamo un esempio, queste campagne di somministrazione di questi farmaci che sono stati considerati obbligatori per molte categorie, come abbiamo visto in questi due anni, e che non sono serviti praticamente a nulla. Quindi anche questo, questo errato investimento, è andato a finire sulle spalle delle famiglie. Perché noi dobbiamo pagare le tasse in un sistema sanitario nazionale e avremmo diritto alla salute, proprio perché paghiamo queste tasse, e poi ci dobbiamo vedere rifiutato questo diritto alla salute, magari perché siamo senza lasciapassare, o ci siamo rifiutati di assumere un farmaco che si è visto ovviamente inutile da un punto di vista preventivo di alcune infezioni, un'infezione particolare di cui abbiamo parlato molto in questi due anni, e farmaci addirittura che si sono rivelati dannosi per molte persone. La salute è un territorio ormai di controllo governativo, è un luogo di controllo governativo, e il sistema sanitario nazionale è diventato appunto qualcosa che ha a che fare esclusivamente con il dominio delle istituzioni, il dominio del governo. Per cui non è più un interesse verso i cittadini che muove le pubbliche istituzioni nell'ambito sanitario, ma è un interesse politico, possiamo dire un interesse vero e proprio elettorale. Infatti molte regioni, molti politici, sanno che per essere eletti devono tenere particolare riguardo per questo settore, diciamo così pubblico, che in realtà è diventato un settore governativo. E quindi la pubblica sanità è un settore di intervento politico ed elettorale, esclusivamente questo è diventato. Quindi a questo punto chi è fuoriuscito dal sistema sanitario, chi non si è piegato a queste somministrazioni forzate, agli obblighi che ne sono derivati, è in realtà una persona che riesce a vedere la sanità pubblica da un punto di vista critico e ha ancora dei principi nello svolgimento della sua professione, dei principi che riguardano il rapporto con il paziente, che riguardano l'approfondimento personale, l'analisi, la cura al di là di quelle che sono le linee guide. Quindi siamo a un punto di rottura con il sistema sanitario nazionale, a mio parere. E questo punto di rottura ci deve rendere consapevoli del fatto che bisogna innanzitutto recuperare il rapporto medico-paziente, poi bisogna cominciare a considerare in maniera non più rigida i protocolli e le linee guida e bisogna sicuramente rinforzare delle strutture territoriali che devono essere funzionanti, devono essere più presenti sul territorio, in maniera anche più capillare, possiamo dire. Il territorio non è fatto soltanto delle grandi città, è fatto anche dei paesi, dei piccoli centri che devono avere le loro strutture ospedaliere, i loro centri organizzativi per la cura della persona. E poi ovviamente bisogna valutare i medici in base effettivamente al loro operato, ai loro risultati sui pazienti e non all'aderenza del loro operato alle linee guida. Quindi soltanto da un punto di vista della fidelizzazione di questi medici al governo o al ministero o al sistema sanitario nazionale. Cioè il medico deve essere visto effettivamente per quello che deve essere. E inoltre, una cosa veramente molto importante è cercare di comprendere che ci sono dei punti critici in queste strutture ospedaliere, che sono punti critici che riguardano sicuramente l'alimentazione, gli stili di vita, le menze che sono destinate ai pazienti, ma anche proprio dei punti critici di igiene. Nel momento in cui si entra in un ospedale, molto spesso ci si espone a una miriade di infezioni, a una quantità di infezioni che non sono riscontrabili all'esterno delle strutture ospedaliere. E questo è un altro fattore che non è corretto, non è giusto per chi paga le tasse e ha un diritto alla salute. Poi entrare in un ambiente che non è salubre, che non è privo di infezioni e anche esporsi a questi agenti patogeni significa comunque vedersi negare il proprio diritto alla salute e addirittura andare incontro a un fattore di rischio aggiuntivo in queste strutture pubbliche. Quindi anche questo è inaccettabile, chiaramente, considerando che l'Italia forse è uno dei paesi che sta messo peggio da questo punto di vista dell'infezione ospedaliere. Non si tratta di un paese in via di sviluppo, non si tratta di un paese dell'Africa o dell'India o dell'Est. Si tratta di un paese in teoria civilizzato, un paese evoluto, sviluppato. Ma che significa tutto questo progresso se poi nel momento in cui si è malati si entra in un ambiente ospedaliero in cui si dovrebbe curare? Si va incontro a rischi aggiuntivi, spesso mortali. Quindi anche questo va considerato e non va perso tempo con le pandemie immaginarie, con i sintomi immaginarie, con gli screening o i tamponi o le somministrazioni di farmaci in massa. Vanno viste quelle che sono le criticità di questo sistema, vanno eliminate e va presa consapevolezza, proprio in base a quello che sta succedendo in questo periodo, di che cosa significhi salute, che cosa significhi interazione tra psiche, corpo e ambiente. E quindi va recuperato in questo modo e non in altro il concetto di salute, la salute individuale e comunitaria. Io mi auguro che queste parole possano arrivare sicuramente a tante persone che mi seguono e che so, insomma, che continuano a seguire i miei video anche con una certa fedeltà, possiamo dire. Ma io mi auguro che arrivino queste parole soprattutto agli operatori sanitari e ai medici e ai biologi che si sono in questo momento posti delle domande. Perché porsi delle domande significa capire, significa riuscire ad analizzare gli eventi non secondo una struttura mentale rigida e non soltanto in base ai propri interessi e alla propria necessità di stare tranquilli nel proprio lavoro. Bisogna comprendere che stare tranquilli comunque non significa mettere da parte quelli che sono stati i principi per cui noi ci siamo mosse e abbiamo studiato in questi ambiti e per cui abbiamo scelto questa professione. Andare incontro a una professione soltanto per portare a casa uno stipendio o comunque portare a casa un introito significa alla fine poter fare qualsiasi lavoro. E invece non è così. Chi ha scelto un settore sanitario significa che ha altri principi e questi principi adesso devono guidarlo verso l'uscita dal sistema sanitario nazionale e la creazione l'ideazione e la creazione appunto di qualcosa di alternativo.